Sono Valleo Di Cesare, sono nato a Roma il 23 maggio dell'83 e difensore del Bari. Posso dire che sono un ragazzo solare, giocoso e un pochino anche permaloso direi. Ha recuperato palla, ha superato due avversari. Però sono qui a dirvi che la mia carriera da giocatore finisce qui. Comunque sono arrivato a 41 anni, non me l'aspettavo. È stata un'emozione grandissima. Da bambino il mio sogno era diventare giocatore e ce l'ho fatta. Forse avrei potuto fare di più, questo non lo so. Però il calcio è stata la mia vita, è la mia vita, è stata la mia passione, è la mia passione. È tutto per me, però oggi si conclude un pezzo. Grazie. Grazie. Grazie.